Siamo tornati, è stata brevissima come promessa. Se vi chiedete come mai c'è il deserto alla mia sinistra è perché stavamo attendendo Valerio, il nostro opinionista, e non è più arrivato. L'hanno intrattenuto con il docente della tesi, perché noi siamo all'interno dell'università Niccolò Cusano. E quindi andiamo avanti con Gianni, che c'è comunque una nostra garanzia. Presenti tu il prossimo ospite? Vai Gianni. Vai. Sì. Allora, a tutti i telespettatori di Futuro Lavoro, oggi presentiamo Germana, l'artista che abbiamo in collegamento. Eccoci, Germana. Eccoci, devo dire bravo Gianni. Grazie. Perché Germana Caldi, come giustamente tu hai detto, è un'artista poliedrica. Eh sì, in tutti i sensi. Le sue opere spaziano, la parola del 1996, tra acquarelli e fotografie. Quindi c'è veramente di tutto, la nostra pronta regia che li sottoporrà in questo lunghissimo viaggio. E quindi si può dire che Germana Caldi è arte in movimento, o sbaglio? È così? Beh, abbastanza. Parlami un po' di te, della carriera, dell'inizio, quello che preferisci. Sì, ok. Allora, diciamo che è stata, non è stata subito facile, come al solito, perché avevo un po' di dubbi, no? Fare arte in Italia talvolta fa venire un po' di preoccupazioni, come farò, come faccio, eccetera. L'ascolto però di se stessi è fondamentale. Quindi ho pensato e ripensato all'inizio, innanzitutto ho iniziato questo filone di riflessi e trasparenze, appunto, nel 1996. Quindi di getto ho iniziato a creare, a fare queste opere in acquarello. E successivamente poi, diciamo, ho fatto alcune mostre, ma è una cosa che faceva più che altro per me. Questo fatto di, sì, diciamo, avevo queste opere in casa, no? Ho fatto qualcosa, chiaramente qualche esposizione, ma c'erano delle cose che, insomma, non mi risuonavano bene. Poiché autodidatta, sai, le volte... Però Germanna, tu sei figlia d'arte. Io sono figlia d'arte, esatto. E quanto ha influito l'educazione familiare, poi, chiaramente, attraverso la tua famiglia, immagino che tu abbia sviluppato un senso artistico forte. Spiccato. Sì, spiccato, spiccatissimo, diciamo, per certi aspetti. Tuttavia, come... cioè, questa è una cosa da non sottovalutare. Dico che sono autodidatta perché, in effetti, queste figure, questi nonni, tutti e quattro artisti, io non le ho mai conosciuti o vissuti. Quindi in questo ho sentito un grande vuoto. Anche mio padre, comunque, in effetti, un grande artista polietrico, anche lui, definito anche geniale, appunto. Quindi, diciamo, hanno influito tantissimo. Tuttavia, ho fatto molto, molto, molto tutto da sola. Perché, appunto, con questo vuoto, no? Ho sentito comunque la necessità, come dicevo prima, inizialmente, diciamo, creavo, eccetera, mi piaceva. Ma poi, a un certo punto, ho sentito proprio l'esigenza di dare proprio spazio definitivamente a tutta quest'arte che io mi sentivo dentro. E queste sensazioni, queste sensibilità che avevo, questi talenti. Perché non ne ho più di uno. Cioè, ne ho più di uno, ma allo stesso tempo ho dovuto cercare di incanalare e puntare più su questo. Per esempio, ecco, da ragazzina volevo fare l'ISEF, ero molto dotata, no? Da tutta vista, facevo allenamento, insomma, facevo, appunto, seriamente, ginnastica artistica. E questa cosa che l'ho dovuta lasciare, per forza di situazioni, l'ho ritrovata nella fotografia. Ecco, quindi l'ho riportata alla luce, utilizzando proprio il mio corpo, cercando di fare arte, cercando di fare, appunto, con questo, che ho, diciamo, qualcosa di originale, divertendomi con la mia creatività, appunto. Senti un po', Germana, è curioso quello che dici, ma c'è anche un lato estremamente profondo. Come in abbenza ogni tanto mi trasformo in marzullo e faccio la domanda più profonda che ci sia. Come fa l'arte a colmare un vuoto per te e se ci stai riuscendo? Come fa l'arte a creare un vuoto per me? No, colmartelo, perché tu mi hai parlato di vuoto. Quindi l'arte ti ha aiutato a riempirlo, in un certo senso. Sì, perché ho, come dicevo, per me l'ascolto, fondamentalmente, l'ascolto interiore, per me, come per ciascuno, lo ritengo fondamentale. È proprio il motivo, cerco proprio di dare questi input nella mia arte, in tutte le espressioni artistiche che ho. E quindi questo mi ha permesso, appunto, di andare proprio ad ascoltare quella parte e a tirar fuori, inizialmente, ecco, con gli acquerelli, quindi tutti questi lavori molto minuziosi, no? Poi successivamente ho sentito la necessità, sia con il corpo, appunto, ma anche attraverso forme invece più libere. Quindi c'è un filone che ho iniziato, che ho sentito la free emotions, no? Un po' perché volevo anche levare un po' tutta questa struttura che avevo, anche di fare cose sempre precise, troppo precise, no? È importante mettersi in discussione, per quanto mi riguarda, insomma, possibilmente in più... Abbiamo una domanda da Gianni, Germana. Sì, Gianni. Vorrei chiederle, quale sono le emozioni, le sensazioni che guidano l'artista durante la creazione dell'opera? Ok, guarda, io posso ovviamente darti le mie, le sensazioni e le emozioni sono di profonda connessione, appunto, con me stessa. Assolutamente quello che per me è importante, come dicevo, è la luce, quindi portare proprio alla luce chi sono. E quindi senza luce io avrei difficoltà a creare. Dico luce perché ho necessità di portare, quindi di trasmettere proprio l'energia che ho dentro, no? Quindi questo impulso forte, quindi questa energia, questa creatività. Io a certe volte, ecco, anche di notte ho delle idee, quindi poi devo scrivere proprio per evitare di perdermi il momento, no? Quindi per me la connessione con me stessa è fondamentale, Gianni, assolutamente. Ma è una connessione sana, ecco, nel senso ho piacere che gli altri che vedono le mie opere ne vedano l'energia e la luce, la bellezza, capisci? Su questo sono molto, come dire, decisa, no? Che è questo proprio quello che voglio far arrivare. Luce, energia e quindi come si traducono queste sensazioni in sentimenti? Meglio, quali sentimenti vuoi far trasparire dalle tue opere, dal tuo lavoro? Beh, amore, amore per... Ce n'è sempre bisogno, in un modo o nell'altro, se ci amassimo tutti un po' di più, molti problemi non ci sarebbero. Però se ci pensiamo, l'amore e la rabbia vengono comunque raffigurati con lo stesso colore che, mi viene da pensare, al rosso. C'è una spiegazione? Odiettamo, quari, facciamo, portassere, quiris. Come dicevo, e questo appunto ti posso dare la mia, no, personale, io, diciamo, non so se qualcuno di voi ne sa qualcosa, ma i temperamenti sono molto importanti. Io sono un sagittario, come dicevo già tempo fa, e quindi ho un segno di fuoco, quindi la passione, la rabbia, rabbia nel senso che comunque, diciamo, si traduce in una persona collerica, no? Collerica però nel senso sano, cioè, ossia, almeno io l'ho tradotta in questo modo, cercare di utilizzare anche la rabbia, no? L'amore, come dicevi tu, Pina, quindi la passione che è quella che è il motore, è proprio il carbone, no? Che alimenta e che quindi ci fa muovere, ci fa spostare e quindi creare, insomma. Ecco, Germana, tu ti stai appunto dichiarando in maniera proprio trasparente che sei un'artista passionale, questo è chiaro, però in una tua recente intervista con il celebre Tonino Pinto hai dichiarato che Roma sta vivendo una sorta di assopimento, giusto? Ma guarda, in effetti credo che, almeno per quanto riguarda la mia, sempre, visione, non lo sta vivendo adesso. Per me lo sta vivendo da molto, ossia, quello che parlavamo con Pinto era quello che c'è, quello che è assente in Italia, diciamo, anche poi in Europa. Lui faceva il paragone con Los Angeles, no? Quello che viene qui, quello che arriva qui è sempre un dopo. Queste invece città di frontiera sono quelle che veramente pullulano, ok? E c'è anche molta gente che ha occhi per vedere. E qui, in effetti, questa cosa scarseggia. Però tu hai aggiunto, Germana, sempre in questa intervista, di voler accelerare i tempi e quindi sperare di riuscire a portare un cambiamento. Allora io ti chiedo, in che modo? In che senso e in che modo? Allora, quello che ti dicevo, appunto, poiché faccio arte da 25 anni... Quindi non sei d'argento, insomma. È bravo, bravissimo. Questa realtà è ancora molto assopita per me, ok? Io dovrei stare in tante gallerie a Roma e questa cosa chiaramente ancora non si è smossa, no? Proprio perché faccio tutto da sola. In altri contesti, invece, certe cose si notano, si notano prima. C'è gente che ha, come dicevo, ha occhi per vedere. Talvolta il cambiamento, appunto, è solo nostro, no? E quindi lo sto apportando, in effetti, perché molte cose si sono mosse. Anche la collaborazione con il maestro Enrico Vanzina, che è stata, appunto, in due film, io ho delle opere, appunto, nel set. Quindi anche questa è una cosa che comunque è stata, per me, molto importante, no? Quindi le cose poi si muovono quando noi siamo pronti. Questo c'è da dirlo, per me è fondamentale. E quindi le cose sono arrivate in questo senso e stanno arrivando. Tuttavia, certe cose, se non arrivano a casa, come dire, te le devi andare a cercare, te le devi andare a prendere, se le vuoi. Qualsiasi cosa, se la vuoi veramente, devi osare. Osare, osare sempre per raggiungere i propri obiettivi. Abbiamo parlato di occhi per guardare, però a me sembra che molto spesso manchino le orecchie per sentire un'emergenza che il settore sta vivendo. Allora, come viene da dire, siamo abituati in questa epoca storica a parlare di curve, di picchi, per quanto riguarda altri settori. Però la mia impressione è che l'esterno non si è più abituato all'arte, che ormai, il mondo essendo così fugace, così rapido, i video durano 15 secondi e poi dà l'attenzione, soffermarsi su un'opera si è diventato un peso. È una cosa della quale ti sei resa conto? È una cosa che immagino ti faccio anche un po' soffrire sul tema? Sì, interessante la tua osservazione. In effetti si va sempre troppo di corsa, questo è vero, assolutamente hai ragione. Bisognerebbe prenderci un po' di spazio per noi stessi, per l'ascolto e anche proprio per vedere quello che dicevi tu, la bellezza per osservare qualcosa. Come al solito è sempre tutto molto soggettivo, ci sono persone che chiaramente, chi fa yoga ad esempio, chi ha un certo tipo di connessione con se stesso, ma anche proprio un modo di vivere la vita, una filosofia di vita, chiaramente questa cosa ce l'ha molto più sviluppata. Certamente chi vive la vita in un altro modo o altre passioni, queste sono cose che si perde. D'altronde non siamo tutti uguali, bisogna lasciare... Diciamo l'arte non è per tutti, Germana. Ah no, assolutamente. Gianni! Però è per Gianni. Però bisogna anche educare, sapere educare, possibilmente, ecco questo sicuro. E in che modo, scusa Gianni, poi ti lascio la domanda, perché la questione di Germana è interessante. educare, hai detto bene Germana, ma ci sono dei modi, a prescindere dalla scuola, che è il luogo natio del bambino, in cui ti puoi educare attraverso l'arte, secondo te? Eh, oddio... Eh, lo so, domande molto ampie, però... No, brava, hai ragione. Pensiero tuo. Molto, molto ampio, ma penso che certe cose si possono... Ecco, guarda, ti dico una cosa, meno male che mi è arrivata adesso, proprio di recente. Ho venduto un'opera a una bambina di nove anni, che è innamorata di una mia opera, e il papà l'ha acquistata. Allora, quando si hanno dei genitori, io sono rimasta molto emozionata da questo gesto, sia dal padre, chiaramente, che ha lasciato fluire questa emozione della bambina, che appunto non è da tutti, al di là del discorso economico o non economico, però è questo che manca, capisci? La bambina ha una sensibilità perché sicuramente gli è stata trasmessa. Ecco, questo mi sento di dirti che è importante. È chiaro, Germana, grazie per la risposta, così come ringrazio Gianni per la domanda che farà. Volevo chiederle, sono rimasto colpito dalle parole che ha detto all'inizio del dibattito. Lei all'inizio della carriera era, diciamo, un pochettino timorosa di quello che il futuro le riservava. Dalla sua esperienza, cosa si sente di consigliare ad un ragazzo che si sente, magari portato sì per l'arte, ma non sa come affrontare la sua vena artistica, non sa cosa lo aspetterà nel futuro e come prepararsi al meglio. Ok, come al solito io riparto sempre da me, perché appunto, prima perché la domanda è rivolta a me, ma il senso è proprio che è una cosa che devi sentire. Quando la senti anche con quella rabbia e passione e amore che dicevi tu, Pina, quella è fondamentale. Quella, diciamo, per me c'è sempre stata e quindi se hai quel fuoco, se hai quella cosa dentro, che comunque vibra e hai un ascolto con te stesso, lo senti in effetti, se sei nel posto giusto, se sei nel momento giusto e se hai una certa attitudine. E quindi ecco, appunto, l'ascolto anche con te stesso, al di là se hai studiato o meno, perché molti grandi erano comunque autodidatti, quindi mi viene in mente Walt Disney, anche se insomma faceva un'arte sicuramente, diciamo, fantastica, meravigliosa, che insomma ancora ci rapisce. Quindi voglio dire che questo sentirsi dentro questa cosa, a un certo punto, quando è forte, al di là delle barriere, degli ostacoli, dei muri, devi andare, devi andare, devi osare, come dicevamo prima. Oltre i limiti, verso l'infinito e oltre. Ecco Germana, passiamo alle tue, diciamo, ultime opere che hai realizzato. Hai dichiarato, sempre in una tua intervista, che a luglio di quest'anno hai realizzato delle opere molto forti. Te ne vuoi parlare? Sì, come dicevo, si riallaccia a questa bambina anche, che infatti è stata colpita da queste opere, perché come appunto tu hai notato, Pina, ho vissuto un momento di riflessione, io non a caso faccio riflessi e trasparenze, come dicevo, dal 96, che poi appunto è molto, diciamo... Cosa hai riflettuto, Germana? Che appunto questa rabbia che avevo, questa rabbia a un certo punto si è trasformata, dopo un momento di fermo, si è trasformata in voler utilizzare un colore così tanto forte e quindi gettare questi colori e cercare di tirare fuori tutte queste emozioni usando questo colore forte, che era in questo caso il fucsia, che è il protagonista di queste tre opere che avevo fatto, che si intitono appunto Three Emotions. E quindi in questo senso ti dicevo forti, no? Perché appunto ho utilizzato un colore che prima non avevo mai utilizzato e infatti già ne ho fatti altri due negli ultimi giorni. E quindi proprio perché appunto tirare fuori le emozioni... Ecco, cosa volevi suscitare? Cosa volevi suscitare agli occhi dell'osservatore con questo colore forte? Eh, in questo caso proprio energia, energia, forza, costanza, no? Questo, sì. Amore per quello che abbiamo dentro, per quello che chiaramente ecco nell'arte, no? Ha più facilità ad emergere sicuramente. E quindi questo ecco, come ti dicevo, è stato molto interessante perché è stato compreso, a parte da questa bambina, ma comunque ho avuto molti consensi, insomma, ho fatto queste tre opere iniziali che sono state veramente molto apprezzate. Questo è stato importante perché vuol dire che, insomma, sono state ascoltate, sono arrivate queste emozioni, questa potenza, questa rabbia, diciamo anche, no? Trasformata positivamente ha portato, insomma, qualche emozione anche a chi le è avvenute. Assolutamente interessante, nelle tue risposte, Germana, è quello dell'utilizzo del colore. E allora ho cominciato un po' a viaggiare con la mente, a pensare al primo impatto con un colore che non si è mai usato, che non si è mai utilizzato all'interno delle proprie opere. Ecco, qual è l'approccio e poi anche il percorso di realizzazione di un'opera attraverso un colore mai utilizzato? C'è soddisfazione, preoccupazione? Insomma, parlacene un po' di questo approccio al fucsia. Sì, è carino, l'approccio al fucsia, interessante. Sì, guarda, devo dire che sono stata proprio ipnotizzata. L'ho visto che stava lì la scatolina e ho detto caspita, questo lo voglio prendere. Proprio quello che mi sentivo dentro, no? Era quello che ci voleva, proprio per tirare fuori queste emozioni. E quindi l'ho veduto e ho usato una tecnica un pochino diversa che anche questa non l'avevo mai utilizzata. Quindi è stato veramente liberatorio, stupendo, proprio potente. E quindi è incredibile perché alle volte è la stessa cosa che voi pensate che comunque l'opera sia solo quello che arriva all'altro, no? Ma anche come dicevi tu, appunto, no? Anche a me arriva, anche io mi interrogo talvolta su quello che sto facendo e dico ma cosa vogliono trasmettere a me queste opere e cosa io voglio trasmettere agli altri, no? Quindi esatto, questa cosa, questa dublice curiosità, diciamo, interrogativo è interessante perché ti fa appunto guardare dentro e talvolta scopri cose anche molto interessanti. Un momento bellissimo del Dietro le Quinte, quando Germana risponde in generale agli ospiti è vedere Gianni che piano piano alza la manina così. Vai, insieme, eccolo qua, così. Quindi Gianni adesso, con la mano alzata per la sua spiccata educazione per la quale gli faccio sempre i complimenti, ha diritto la domanda, vai. Vorrei chiederle, la quotidianità che lei vive ogni giorno e il contesto che la circonda, quanto influenza sulla creazione dell'opera? Eh, tantissimo. Come dicevo anche di notte, talvolta ho delle idee, ma se mi mettessi così, se mi spostassi in questo modo, sia dal punto di vista fotografico che come frasi, che come colori da utilizzare, veramente alle volte, guarda, mi posso confidare che sorrido talvolta di me stessa, perché certe cose mi, è come se mi venissero a bussare anche di notte, mi fermano. Perché non fai questa cosa? Mi dico, sono sempre io chiaramente, è la parte di me quella creativa, nel senso che... E tu sei diretta a queste voci che ti bussano sulla spalla, ti lanci proprio senza problemi, ok, vi ascolto, vado. Ti sei pentita a volte o sei sempre plusso artistico? No, 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 mai pentita. Ho proprio il tranquillo vicino al letto. Immaginando la scena di Germana alle quattro di notte, che nel tuo viso ci ha... Qual è stata l'intuizione più bella per te? Che ricordi o almeno? Guarda, sono state frasi, perché poi è capitato una cosa particolare anche con le mie My Light Heart, le mie lampadine, che è un filone che anche questo troverete nel film di Vanzina, che è appunto a brevissima in uscita. È un filone che ho più di 50 lampadine e queste sono chiaramente nate prima dalle frasi e poi chiaramente ho elaborato un disegno semplice con la testa da lampadina, come dicevo, che doveva essere una cosa intuitiva per l'altro da capire immediatamente con poche linee e quindi abbandonando anche per me tutta quella di solito precisione, di quei lavori che faccio con gli acquerelli. Quindi è una cosa immediata, ma lei sta quindi alte leggere e luminosa per dare appunto all'altro degli input, quindi non solo per far riflettere e trasparire con se stesso, ma proprio di far agire. E quindi in questo senso mi sono arrivate delle frasi, delle idee appunto delle lampadine, di come disegnare delle lampadine, che ovviamente quello che è importante di la difficoltà è associare un'emozione a un disegno per farla arrivare. Questo posso dire che è particolare. Allora, prima di dare l'ultima parola a Gianni, perché Gianni ha presentato la nostra ospire e quindi dovrà chiudere. Tu Germana, vivi il presente in maniera davvero molto intensa, però parliamo anche di futuro. Stai lavorando a un nuovo filone? Attualmente no. Diciamo che tutto quello che c'è vive per me. Non posso, fino adesso anche 25 anni di riflessa e trasparenza non ho mai concluso, perché per me è sempre tutto in divenire. Ho un'idea già da parecchio tempo di fare alcune cose, ma aspetterò il momento giusto. Talvolta bisogna anche darsi il giusto tempo per iniziare qualcosa di nuovo. Devo dire comunque che ho un sacco di cose da fare. Non ti fermi mai, questo l'abbiamo colto in pieno in questi minuti. Anche Gianni non si ferma mai, vero? Con la tua domanda? E chiudiamo. Vorrei domandarle, quale colore pensa che sia più adatto, più bello per dipingere il futuro? Mamma mia, che poesia Gianni. Bravo, bella domanda. Si è bloccato Skype di fronte a questa domanda. In attesa che ripristiniamo il collegamento... Qual è il colore con il quale vorresti dipingere il futuro? Io ce l'ho, ce l'este. No, mi hai rubato il colore. Noi siamo proprio connessi. Sì, bisogna dire assolutamente sì. Futuro lavoro... Tu invece Gianni? Con i colori dello sfondo di futuro lavoro. Sei troppo di parte, veramente troppo di parte. Però è interessante capire in che modo i colori disegnano il futuro. Perché ci sono colori come quelli di Germana, molto forti, molto accesi. Però anche colori più tenui, più calmi. Come il celeste. Tra l'altro non a caso è stata... Cioè, il viola... Il viola è il colore dell'anno, per quanto riguarda la moda... È tornata. Germana. Il colore di Germana... Hai anticipato la moda invernale, perché quest'anno il viola va tantissimo. E tu l'hai già spoilerato a luglio. Spoilerla rapida. Hai visto. Allora, Gianni... Colore per il futuro. Sì. Voleva finire con l'ultima domanda. Vai Gianni. Sì, vorrei chiederle quale colore pensa che sia più adatto per dipingere il futuro? Mi verrebbe da dirti in questo momento la speranza, quindi il verde. Sì, il verde. Ci ha fregato. È una frase che viene... No, perché è una frase con verde speranza, in questo senso. Tuttavia, mi sento... Ecco, mi sento di dire il fucsia sicuramente... Visto che, appunto, come dice Pina, sono stata un po'... Ho anticipato un po' questa... quest'idea, così, anche nella moda. Il fucsia, il viola, insomma... Germana, prima di chiudere, dove possiamo trovare le tue opere, così, per chi ci sta guardando? Ok, grazie. Dunque, immagino che... Ecco, Instagram possa essere sicuramente la fonte migliore. Più che altro perché ho un sito, ma devo assolutamente rifarlo, è fermo, e quindi, appunto, dovrò decidermi a rifarlo. Quindi Instagram... Instagram, ma anche, chiaramente, Facebook. Instagram, ovviamente, mi trovate... Scrivendo, digitando il tuo nome e cognome? Assolutamente sì. Ok. Facilissimo, perfetto. Quindi, con questa facilità... E poi, ovviamente, anche Facebook. E anche Facebook. E anche su Facebook, giustamente. Anche Facebook, ovviamente, due pagine. Una è Riflessi e Trasparenze, Germana Caldi, la 1996, e l'altra è Germana Caldi Artist. Hai seguitela tutti in massa, telespettatori, andate tutti a mettere mi piace o il follow, ormai. Si dice così, però, veramente, grazie di cuore. Grazie mille per averci raccontato la tua arte, perché davvero non è semplice raccontare l'arte. Grazie mille, Germana Caldi. Grazie. Anche a Giovanni, le sue domande interessanti. Gianni, sì. Il buon Gianni, grazie. Che è sempre al nostro fianco nella sua ottima preparazione, bisogna dire. Grazie, grazie a tutti. Grazie a te. Grazie a te, Germana. Finisce qua questa puntata di Futuro Lavoro. È stata veramente ricca di viaggi introspettivi. È stata emozionante. Molto emozionante. Grazie, Dommaso. Grazie a te, Pina, come sempre. Grazie al prontissimo Gianni Truini. Grazie a voi. Sempre pronto, meticolosissimo e ottimo Federico Aielli in cabina di regia. E come sempre, settimana prossima avrete una nuova puntata di Futuro Lavoro. Ciao. 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 Grazie a tutti.